Buongiorno e ben ritrovati puntuali come tutte le mattine per il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo giovedì 24 ottobre. Vediamo quali sono i temi affrontati, gli argomenti principali di oggi. Come sempre lo faremo analizzando le varie prime pagine tra quotidiani regionali, quotidiani siciliani e edizioni invece nazionali. Lo faremo, dicevamo, analizzando le prime pagine per scoprire attraverso i titoli in primo piano appunto quali sono gli argomenti e i temi caldi di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano La Sicilia. Una ricca prima pagina, fratture multiple, questo uno dei titoli. Andiamo a vedere il dettaglio. Affleri, 40 anni dopo il sisma che sconvolse il territorio etneo ma sembra più difficile riprendersi da quello del 2018. Lesioni nelle case ma pure nella società. Il commissario Scalia dice serve la sanatoria a Lars. Cultura nel caos si dimette spano dopo il caso San Giuliano, lascia all'incarico il capo di gabinetto del ministro Giulie, vittima delle indiscrezioni di report. Migranti, l'accusa di Aureli, Bruxelles nasconde il rapporto sui diritti umani in Tunisia. Centrodestra invece blitz sulle province Malars a rischio scioglimento DDL per il voto diretto alla regione siciliana. Poi si parla anche di depurazione. Fatuzzo, più poteri al commissario, ora anche i reflui. Il CSM blinda invece Curcio, votata la Costituzione in giudizio nei ricorsi. Procura di Catania in questo caso sotto i riflettori. Poi sale la tensione in Turchia, attentato terroristico ad Ancara, provoca cinque morti e numerosi feriti. Tragedia sul lavoro a Bologna, due morti invece ed undici feriti nell'esplosione in una fabbrica Toyota. In taglio alto il punto sul campionato di calcio di Serie D. Siracusa nuova capolista, Acireale invece in crisi, Acireale ultimo in classifica, vince il Paternò, derby Nisseno finisce invece in pareggio. Questa è la situazione nel campionato di Serie D. E poi il giro delle città partendo da Catania. Spari in Viale Grimaldi, la sentenza d'appello, due torri di Librino, interventi mai fatti. Siamo ancora a Catania. A Caltagirone, caso di Simona Floridia, perizia su Immagini TV. E poi a Giardini Naxos, l'acqua depurata per l'irrigazione. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione odierna del giornale di Sicilia. Questa è la notizia di apertura, l'Ars delle riforme usa e getta, così li definisce il giornale di Sicilia. Dopo quella sugli enti locali, l'aula stoppa prima del voto pure la nomina sui PRG che prevede il condono degli immobili abusivi confiscati alla mafia. E già si litiga anche sulla questione province. Il disegno di legge, per tornare alle urne, un testo di sette articoli, pronte le regole per il ripristino di presidenti e consiglieri provinciali. L'intervista alla Piana, la siccità dice distrugge il lavoro, parla il segretario della CIS, la crisi idrica minaccia agricoltura e turismo. Questo ovviamente lo sapevamo, insomma si parla ormai da diversi mesi, da diverso tempo di emergenza siccità fra turisti che quest'estate avevano disdetto alcune prenotazioni proprio per mancanza di acqua negli hotel e poi chiaramente tutti i vari danni all'agricoltura. Scontro invece sulla sanità per quanto riguarda la manovra, in Parlamento medici in sciopero contro i tagli appunto alla sanità. E poi la super bonus 110%, una truffa nel palermitano, un arresto e sequestro di beni, sono stati incassati dei crediti per cantieri fantasma e dunque questo imprenditore è finito in manette. E poi lo stupro di Palermo al foro italico condanna confermata al minore per quanto riguarda in questo caso la corte d'appello, in lacrime l'imputato all'epoca dei fatti non ancora maggiorenne, otto anni, otto mesi come in primo grado, il resto del gruppo è processato in tribunale per lo stupro, sentenza attesa il mese prossimo. Questa l'immagine, vedete un fermo immagine di questo gruppo di giovani e poi vedete la ragazza che è stata violentata. Corona scarcerato, esplode la polemica dal 41 bis torna in libertà, il centrodestra annuncia azioni alla camera e poi Monte Pellegrino, siamo dunque a Palermo, auto giù nella scarpata, salvati due giovani, fortunatamente per loro solo lievi ferite e chiaramente tanta paura. A Bagheria invece si dovrà rifare il processo contro due donne accusate di usura. Andiamo in taglio alto, il calcio, la Champions League, gol di Turam nel finale, l'Inter allora vince anche questa partita, mentre si dimette Spano, allora la cultura, vedete altro caso al Ministero, in questo caso dopo il caso San Giuliano. Ancara, due terroristi sparano nella sede di un'industria aerospaziale, uccisi dalle forze speciali turche, 5 i morti fortunatamente illesi, gli 11 italiani che si trovavano in quella zona. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina la Gazzetta del Sud, restiamo dunque nell'isola, restiamo in Sicilia, si parla di Messina, slittano le assunzioni, il Consiglio approva il bilancio ma non l'immediata esecutività che le avrebbe sbloccate già dal primo novembre. Per i 179 vincitori di concorso dunque tutto rinviato a dicembre e ovviamente scoppia la polemica. Altre notizie da Messina, un'avaria dopo il guasto, altri disagi idrici in città, problemi previsti anche per la giornata di oggi e poi la casa dello studente ancora fuori corso, progetto di rilancio, anche in questo caso la notizia arriva da Messina. E poi terrorismo, l'inferno ad Ancara, 5 morti, Turchia, nel mirino la sede dell'industria aerospaziale Tuzas, uccisi due attentatori, 11 tecnici italiani illesi sotto accusa il PKK rappresaglia. Questa la notizia, vedete anche le immagini dei due terroristi, si tratta di un uomo e una donna ripresi dalle telecamere di sicurezza al momento di questo blitz all'interno della struttura e come detto poi successivamente sono stati uccisi dalle forze speciali che sono entrate nell'edificio. Restiamo ancora in Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica. La questione province, in primissimo piano il titolo, lo sprint del centrodestra, per quanto riguarda appunto le province, in palio 338 nuove poltrone. Una norma urgente all'Ars per fermare le elezioni di secondo grado in vigore nel resto d'Italia, ma già nel 2018 ci fu il no della consulta. Altro rinvio alle porte, mentre per strade e scuole è emergenza. Le parole di Falcone, solo una scusa, dice, per far slittare ancora tutto bisogna dare una guida. Queste le parole dell'eurodeputato di Forza Italia. E ancora il racconto, la nostalgia irrefrenabile per quegli enti, simbolo del potere. In questa foto del 98 vedete Massimo D'Alema con Pietro Puccio. La storia. San Mauro Castelverde chiama Buenos Aires verità sul nostro desaparecido. La targa dedicata a Vincenzo Fiore è scomparso nel periodo del regime argentino. Questa dunque la notizia, o meglio la storia, stamane su Repubblica Palermo. E poi l'intervista a Monti che dice così, il porto ha cambiato proprio Palermo, adesso un manager. Altre notizie su Repubblica. Il caso, centro di fotografia, i parenti di battaglia dicono ritiriamo le opere. E poi dibattito sullo spopolamento con Repubblica, letterature migranti, scrive in questo caso l'edizione odierna di Repubblica Palermo. Poi come sempre tutti gli approfondimenti all'interno del quotidiano. Restiamo sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. Si parla di manovra, si parla nello specifico di sanità e nello specifico vedete una sanità tradita. Questo titola Repubblica salta il piano per assumere medici e infermieri. I sindacati proclamano lo sciopero. Una batosta, dice Ellis Line. Pensioni solo tre euro in più per le minime. Diminuiscono le detrazioni per i single e redditi sopra i 75 mila. Marina Berlusconi, bene Meloni, certi giudici sono contro l'Italia, ha dichiarato Marina Berlusconi. E poi in Turchia, attentato al campus aerospaziale di Ancara, cinque le vittime, uccisi due terroristi in salvo, i tecnici italiani di Leonardo. Da Repubblica alla prima pagina del Corriere della Sera, cultura, nuove dimissioni. Ora lascia Spano, il ministro Giulio parla di un clima di mostrificazione. Queste le sue parole. Mentre per quanto riguarda la manovra, misure e tensioni, titola il Corriere della Sera, il colle firma, la legge alla Camera, i medici scioperiamo, taglio di 5.600 prof, tetto alle detrazioni, le pensioni minime salgono di 3 euro al mese e le opposizioni parlano, in questo caso per quanto riguarda le pensioni minime, di una elemosina. Lasciamo anche la Corriere della Sera, proseguiamo con la nostra rassegna. Abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina. Ci spostiamo ad esempio sulla prima pagina della Quotidiano La Stampa, anche qui si parla della manovra, si parla di sanità ma anche di pensioni. Beffa, manovra, titola La Stampa, saltano i fondi per assunzioni dei medici e liste d'attesa, pronto lo sciopero, minime rivalutate di 3 euro al mese. Batosta, che il paese non merita, ha dichiarato la leader del Partito Democratico Ellis Line, meloni danno fatto da chi ha messo il superbonus. Andiamo poi all'estero, main Trump, vorrei i generali di Hitler, bufera su Donald Trump, candidato alle presidenziali negli Stati Uniti. Full Metal Kim, invece i soldati nordcoreani verso la Russia. Questi gli argomenti principali stamane sul Quotidiano La Stampa. Questa invece è la prima pagina del giornale, manovra e migranti, due sì da parte della Presidente Mattarella, legge di bilancio e DL Paesi Sicuri. Dai giudici nessun complotto, dice Giorgia Meloni, ma menefreghismo della volontà popolare. Altre dichiarazioni, parla Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio Berlusconi, che promuove l'attuale governo responsabile sui conti pubblici. La vedete in questa foto Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori. Caos Cultura, lascia il capo di gabinetto, compagno consulente al Maxi, Spano si dimette dal Ministro, tensione fra Giuli e Fratelli d'Italia, l'ira della Premier Giorgia Meloni. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, lasciamo il giornale. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, che parla di una stangata, vedete, sanità e scuola in rivolta, pochi soldi alla salute, medici in sciopero e 5.600 docenti in meno. Tagli agli enti locali, per le regioni e comuni meno 4 miliardi e mezzo in quattro anni, per i ministeri invece meno 7,7 miliardi in tre anni. È arrivata la stangata, scrive stamane, il Fatto Quotidiano a proposito della manovra. Il mattino bufera al MIC, si parla dunque di cultura, via il braccio destro di Giuli, il capo di gabinetto, Spano, lascia per il contratto al marito, Ministro sotto tutela, ma così me ne vado, ha dichiarato poi il Ministro. Campania invece, primato delle start-up, i progetti innovativi dei sette Atenei su salute e cultura. E ancora Caravaggio, Warhol, capo di Monte Pop, tornano i capolavori, la sfida per attrarre più visitatori. Dunque, vedete, si parla anche di arte e di cultura stamane sul Quotidiano, il mattino. Andiamo adesso a vedere invece la prima pagina del messaggero, dunque da Napoli. Ci spostiamo virtualmente a Roma, cultura senza pace, lascia il capo gabinetto di Giuli, Spano si dimette per il contratto a suo marito. Sui migranti nessun complotto, ma me ne freghismo del voto popolare. Queste sono le parole di Giorgia Meloli, mentre Mattarella firma il decreto sugli stati sicuri. E poi, Marina Berlusconi, come abbiamo visto prima, promuove il governo, certi magistrati, dice, sono nemici del paese. Io in politica no, faccio l'imprenditrice. Questa è la posizione, a quanto pare, netta da parte di Marina Berlusconi. Cuneo e detrazioni, si cambia, benefici in busta paga fino a 1000 euro, ma la base di calcolo sarà il reddito complessivo. Tetti agli sconti fiscali da 75 mila euro, salvi mutui e spese sanitarie, sciopero invece da parte dei medici. E poi ampio spazio all'attentato di Ankara, terrore, cinque morti, attacco a un'industria aerospaziale, presi in ostaggio alcuni dipendenti, poi il blitz delle forze speciali che ha portato all'uccisione dei due terroristi. Dal messaggero alla prima pagina di Libero, un altro scandalo sexy, la cultura che scotta. Dopo il caso Boccia, San Giuliano si dimette, il capo di gabinetto di Giulio, fatali le accuse di report sulle consulenze al compagno al Maxi, ma a nominarlo era stata la Dem Melandri. In taglio centrale, la stampa nemica in colonna Giorgia Meloni, le celebrazioni di Economist e Le Monde, mentre ancora le parole, vedete, di Marina Berlusconi che delude la sinistra, questo governo fa bene su tutto, certi giudici sono nemici del paese, ha poi dichiarato l'imprenditrice. Parliamo di sport, andiamo a vedere come tutte le mattine le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che celebra l'Inter dopo la vittoria in Champions League, la partita ieri sera ovviamente in trasferta per i Nerazzurri, urlo Turam, l'Inter batte lo Young Boys all'ultimo respiro, ovvero un gol al 93esimo e al momento l'Inter è tra le otto big della maxi classifica di Champions League. Che fatica sul sintetico di Berna, Arnautovic sbaglia un rigore, entrano i titolari e la risolvono con il gol, come detto decisivo, al 93esimo da parte di Turam. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, anche qui vedete la Corriere celebra, appunto Marcus Turam, San Marcus, questo il titolo, Super Champions, Inzaghi passa in casa dello Young Boys, festa Inter con Turam che regala la vittoria al 93esimo. Le seconde linee nerazzurre non sfondano, Arnautovic sbaglia anche un rigore, la partita poi si sblocca con l'ingresso dei titolari. Simone Inzaghi sale a quota 7, a due punti dalla vetta, mentre l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro il Celtic. Chiudiamo con tutto sport, si parla invece di Juventus, reazione Juve, questo il titolo, motta ore davanti alla TV, giuntoli sul mercato dopo una notte di sconforto per la sconfitta in Champions e chiaramente Thiago ha riguardato due volte il flop con lo Stoccarda, studiando errori e nuove soluzioni. Il direttore tecnico fa visionare il difensore Ortiz e si muove per Lucca, ma il sogno in attacco resta Zirk Zee, l'ex Bologna ora in forza al Manchester United, sta deludendo però lì l'ex giocatore del Bologna e chissà che non possa appunto ritornare in Italia. Noi ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa, abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine, ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali, prosegue lungo tutto questo giovedì con le nostre varie edizioni di Spazio Notizia per tenervi sempre aggiornati e allora come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a dopo.